Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi della nuova linea di smalti proposta da Kiko. Il prodotto si chiama Power Pro Nail Lacquer ed è uno smalto che promette un risultato professionale, un finish brillante e una tenuta estrema fino a 7 giorni. E' disponibile in ben 45 tonalità, quindi dalle più neutre alle più vivaci, per ogni look e per tutti i gusti. Il prodotto ha un prezzo di 4,90€, però in questo momento e fino al 30 giugno c'è una promozione grazie alla quale acquistando 3 smalti se ne riceve un quarto in omaggio, per cui uno smalto viene a costare meno di 4€. Ad ogni modo è un prodotto che sarà permanente, quindi non c'è nessuna fretta e nessun problema riguardo poi la reperibilità. Questo smalto è anche formulato senza ingredienti aggressivi come toluene, camfora, DBP, resina formaldeide e formaldeide. E Kiko ci dice che è anche arricchito di ingredienti che nutrono e rinforzano le nostre unghie, il che non fa mai male. Il pack del prodotto è bellissimo, eccolo qua, vediamo se riesco a farlo vedere in un modo regente. Allora, praticamente come vedete è molto elegante e moderno sicuramente, con questo tappo, diciamo, questo design che Kiko definisce a capsula e ha praticamente il tappo lucido, brillante per richiamare, come dice Kiko, tratto diciamo dal sito di Kiko, con classe, la lucidità, la lucentezza, la brillantezza del prodotto stesso. L'applicatore è ergonomico per cui facilita la presa e quindi l'applicazione e l'astina del prodotto è striata, non l'avevo capito all'inizio ma poi ho cercato ieri di capire come era fatta. Se vedete praticamente l'astina è striata per cui dovrebbe rilasciare la giusta quantità di prodotto per l'unghia. E invece il pennellino è realizzato con mille setole, ovviamente non si può verificare, comunque è molto fitto, largo e ha il finale praticamente arrotondato in questo modo. Quindi va a seguire la forma dell'unghia e quindi diciamo ci aiuta sicuramente nell'applicazione e per evitare quindi imperfezioni. Ok, quindi questo era il pack del prodotto. Dunque, io stamattina ho applicato uno di questi colori ed è questo che vi faccio vedere che è il color pesca, il colore numero 07, 07 pesca, eccolo qua. Anche se vi dico già che l'applicazione è stata molto, leggiamo, veloce perché stamattina mi sono veramente innervosita con la rimozione di questo disgraziato di smalto della New York Over. Bellissimo, però credetemi, una di voi mi aveva anticipato che probabilmente la rimozione sarebbe stato un problema, ma non immaginavo fino a questo punto. Cioè le dita immerse nel barattolo leva smalto, poi alla fine sono riuscita, proprio sfregando con un'unghia sull'altra, a togliere questi glitter neri. Quindi l'idea è carina, lo smalto dura, è ottimo, però sinceramente se volete fare un regalino a qualcuno che vi sta sulle balle, questo è un pensierino perfetto. Io non lo indosserò sicuramente più. Comunque la texture è sicuramente fluida, la texture è ottima per la stesura, perché non è né troppo densa né troppo liquida, quindi proprio rende la stesura abbastanza agevole. Io ho fatto due passate, come dice Kiko, però non ho applicato nessun top coat, proprio perché volevo farvi vedere il risultato, insomma, dello smalto da solo. Ecco qua. Dopo la prima passata, per dirvi la verità, credo che dipenda comunque dal colore, c'erano diverse striature, però con la seconda sicuramente si è livellato e il risultato, nonostante la mia situazione psicofisica di stamattina, è andato abbastanza bene. E ora, per farvi vedere i colori che ho preso, io ieri ne ho acquistati 8 e ho pagato 29,40 euro, quindi ho sfruttato ovviamente la promozione, ne ho pagati 6 e 2, mi sono venuti quindi in omaggio. E ho acquistato quindi queste 8 tonalità, quelle 8 che ovviamente sul momento mi sono sembrate le più interessanti e mi sono armata di ruotina per farvi vedere i colori. Avevo pensato di metterli, proprio applicarli un colore per ogni ditino, ma avrei fatto dei terribili gestacci e non era veramente una cosa elegante. E quindi, niente, ieri sera sono uscita e sono andata a prendere questa bellissima rotina Peggy Sage, così adesso insieme vediamo le tonalità che ho acquistato. Allora, ve le faccio vedere sia nella boccetta che sulla tip. Allora, il primo colore che ho voluto prendere è il colore 04, sabbia rosata, che è questo che avete già visto perché ve l'ho mostrato nel pack. E praticamente è un smalto che io trovo veramente molto femminile, molto delicato e particolare perché è veramente un mix tra il beige e il rosa. Eccolo qui, è questo il primo. Mi è piaciuto tanto, ci sono tante sfumature di rosa chiaro, c'è anche il rosa cipria che è molto bello, però sinceramente questo mi sembrava, ed è, lo trovo veramente particolare come tonalità. Quindi, è il colore 04, il primo, sabbia rosata. Il secondo che ho voluto prendere è questo che mi avete visto sulle unghie, questa è nella sua confezione, ed è quindi il colore pesca numero 07. Bellissimo, l'ho trovato veramente una bella sfumatura di pesca perché c'è il giusto mix tra arancio e rosa. Eccolo qui, il colore numero 2, il secondo, il colore pesca. C'è anche comunque, se vi può interessare, l'albicocca, il papaya e poi il geranio che è proprio un bel arancio. Ho voluto poi prendere il numero 10 che si chiama rosso ibisco, che per me è uno dei più belli di tutta la gamma. Il colore in questione è questo, e invece, diciamo, di un rosso classico, ho voluto prendere questo rosso, che è un rosso corallo, un po' pastello, è veramente bellissimo, luminoso, lo trovo molto estivo. E questo è il colore sulla tip, eccolo qua. Numero 3. Numero 10. Rosso ibisco. Segue il colore numero 11, che invece è il rosa fragola. Il rosa fragola, come dice benissimo il suo nome, è un bellissimo rosa medio caldo. È un bel punto di rosa. Anche questo ve lo mostro. Eccolo qua. Questo qui, rosa fragola. Speriamo che si stiemi a 30 fuoco. Ok. Dopodiché, ho voluto acquistare il colore numero 21, che si chiama rubino. Questo colore rubino, già si vede comunque da qua, che è un colore abbastanza intenso, ma è un colore che tende molto al violaggio. Eccolo qui. In realtà, è più un colore sangria. Io lo vedo proprio un mix perfetto tra un rosso borgogna e un prugna. Eccolo qua. Il colore sangria. Sì, vabbè, il colore sangria l'ho ribattezzato da me, sangria. Comunque, il colore numero 21, rubino. Che è proprio un mix tra un rosso borgogna e un prugna. È bellissimo. Sicuramente è più un colore autunnale, invernale, che non estivo, però mi è piaciuto e l'ho preso. E poi c'è il colore numero 22, Malva. Questo proprio non ho neanche guardato cosa c'era dentro, perché il nome è la parolina magica per me. Voi sapete che io ho il debole per tutto ciò che è Malva. Ed è bellissimo. Oltretutto è una donarità di Malva che mi piace da morire. Eccolo qua. Questo è il Malva e sono sicura che io e questo smalto diventeremo grandissimi amici. Ok. Segue il colore numero 24, che è il magenta. Ecco il magenta. Mi fermo due secondi. Il magenta che in realtà è un bellissimo fucsia. Io lo vedo un bellissimo fucsia. Già l'ho immaginato. Guardate che bello comunque. È molto intenso. Un bellissimo fucsia. Secondo me sta benissimo con rossetti tipo, abbinato a rossetti tipo il Girl About Town di MAC. Proprio una tonalità identica direi, proprio al Girl About Town. L'ultimo che ho voluto prendere è il numero 29, che si chiama grigio rosato. Questo è nella sua confezione lo smalto. E come vedete è, diciamo, un grigio che tendenzialmente ha un sottotono violaceo, diciamo, va. Non molto rosato. In realtà questo è stato un po' tra virgolette una delusione per quanto riguarda la colorazione, perché io applicato sulla tip comunque lo vedo proprio un grigio. Cioè lo vedo proprio, voglio dire, molto poco rosato o violaceo. Meno di quello che comunque mi aspettavo. Ecco. Comunque è un bellissimo grigio, assolutamente, però mi aspettavo una sfumatura un po' più particolare, insomma, di vedere di più questa componente rosata. Comunque i colori sono molto belli. Per dire la verità la gamma cromatica mi è piaciuta tanto. Infatti spero di sfruttare ancora la promozione per prendere almeno altri colori che mi sono rimasti qui, come si dice, in Calabria e penso dappertutto, il nocciola, il colore iris, il ciliegia e anche oceano, che è un celeste chiaro veramente bellissimo. Io comunque, come sempre, spero di esservi stata utile con la mia ruotina. Vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. E ci vediamo alla prossima.